Numero 1 Zarkiba, numero 2 Zoraia Grad ritirata, numero 3 Zanzara Jet, numero 4 Zacarbei, numero 5 Zarina Febbi, numero 6 Zelka, numero 7 Zanna delle Selve. Allineamento che si va formando lentamente, la macchina procede lungo la piegata di destra. Ora rimangono leggermente discosti ancora Zacarbei e Zelka. Si ritrae anche Zanzara Jet, macchina che va per lasciare le concorrenti. Dall'esterno è veloce Zanna delle Selve che però subisce il ritorno di Zarkiba che affronta la piegata in vantaggio. La sua schiena è presa dal numero 5 Zarina Febbi che poi però finisce con lo sbagliare. Così Zarkiba si ritrova al comando nei confronti di Zanna delle Selve al completamento della piegata. Con i primi 400 metri che vanno via abbastanza solleciti si fa vedere subito Zacarbei che va al suo esterno. 29,3 per i 400 di gara con Zacarbei che ha attaccato a fondo Zarkiba e la sopravanza, la paletto dei 600, andato in 44 scarsi. Così adesso il plotone in fila indiana con Zacarbei, Zarkiba, poi Zanna delle Selve quindi a seguire le altre. Cappeggiate dal numero 3 Zanzara Jet. 59 il passaggio a metà gara per Leonardo Vastano e la sua Zacarbei. Quando siamo adesso di fronte le prime due hanno preso un po' di margine. Il chilometro va via in 1.13.4 con Zacarbei che per ora si mantiene in evidenza nei confronti di Zarkiba che però accenna a farsi un pochino più minacciosa quando siamo adesso ai tre quarti di miglio passati in 1.27.8 con Zacar che cerca di replicare a Zarkiba che però ha spostato dalla sua scia e ora va all'attacco deciso all'imbocco della dirittura e tende già a passare ai 200 conclusivi. Dall'esterno si fa vedere prima con 1.7 Zanna delle Selve poi anche Zelka che viene all'arco. Intanto Zarkiba ha preso margine nei confronti di Zanna delle Selve e Zelka. Zarkiba che viene a concludere facile nei confronti di Zanna delle Selve che si mantiene ancora in vantaggio su Zelka. Quindi 1.76 l'orriarrivo provvisorio 1.59 il tempo totale. Siamo nell'ordine dell'1.14.2 con il successo per Zarkiba la fine di 1.9 e Morciba Club che così ha la meglio nei confronti di Zanna delle Selve e Zelka. Questo è il finale 1.76 l'ordine di arrivo. Grazie. 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 Grazie.